Per aiutare la ricerca di questo istituto del Cro di Aviano è essenziale la partecipazione dei cittadini alle scelte del 5 per 1000, devo ringraziare tutti coloro, oltre 70 mila cittadini hanno firmato nelle loro denunce ai redditi la scelta per il Cro, quindi li devo tutti ringraziare perché questi sono contributi per noi essenziali, per noi fondamentali e mi auguro che veramente nel prossimo futuro queste scelte continuino e proseguano e aumenti ancora di più, grazie.